Il mio nome è Tommaso Marrochesi Marzi, sono la quinta generazione di proprietà della tenuta di Bibiano. Mi occupo di tutto. Mi sono avvicinato al mondo del vino, prenei tutto perché è parte del patrimonio importante della mia famiglia, poi perché ritenevo di essere in famiglia la persona adatta. Il vino deve essere innanzitutto un momento di piacevolezza e di interlocuzione tra i commensali. Non si può pensare al Chianti Classico staccato dalla tradizione di una cultura gastronomica propria del territorio, ma è espressione anche della nostra famiglia. Dall'altra parte è il biglietto da visita del territorio e quindi la sua piacevolezza deve ricondurre alla bellezza dei luoghi. Innovazione e tradizione coesistono naturalmente nella bottiglia, coesistono naturalmente nell'azienda e nella nostra esperienza aziendale, perché non sono l'una, l'antitesi, l'opposto dell'altra, ma sono il continuo storico delle nostre aziende, delle nostre famiglie, delle nostre tradizioni.